Non è cambiato nulla o quasi dopo l'ultimo turno e la sconfitta con Alto Pascio per la Fides Web Corner Montevarchi in classifica al piccolo vantaggio nei confronti delle inseguitrici è rimasto tale e infatti resta un successo quello che manca a Vigialo Verdi per poter festeggiare dunque anche matematicamente la permanenza in divisione nazionale C. Il secondo impegno interno consecutivo non è però facile, anzi, Coipacchempoli, avversario di domani, rappresenta una forza che staziona saldamente all'interno dei play-off con l'attuale quinto posto e se non ha un attacco esplosivo nei numeri settima forza del girone resta la squadra che a parte la capolista Piombino ha subito meno punti in assoluto con una media di 60 a gara nelle precedenti 23 uscite Empoli è alla ricerca di un posto tra i primi quattro per ottenere il vantaggio del campo almeno nel primo turno play-off nel roster è lungo Fabio Vannini in leader statistico 16.1 punti e 11.1 rimbalzi per gara, terzo miglior marcatore, primo tra i rimbalzisti del girone in quintetto anche il play Federico Moroni, i due oriundi Vladimir Pellegrino-Jasakov e Gonzalo Beltran palla a due domani alle 18 al Palamatteotti